buongiorno allora io ieri sera mi sono imbattuta in un video turco dove spiegavano come si faceva sta boccuccia che mi è piaciuta tanto dato che non sapevo come mi sarebbe venuta l'ho fatta direttamente sul mercoledì che a parte che mi è venuta un capoccione ma comunque vabbè la prossima faremo meglio quindi che ho fatto io ho detto di comunque io dico pure ragazze come si fa perché è carina allora mi prendo una bella capoccetta di prova la testa di prova e facciamo vediamo se ne viene insomma quindi prendo un po di cotone io sono cotone bello grosso che mi piace molto per far queste cose e mi prendo un ago dove sta un ago senza punta perché è più comodo ecco qua allora momento che infilo l'ago aspettate le posiziono decentemente e vediamo se riusciamo a ripricare sta bocca che è molto carina ma è venuta bene subito non lo sapevo da me sarebbe bene subito sta confusione momento mi capita pure a voi che c'è dei 150 aghi e poi non trovate mai quello che sarebbe utile a me sempre allora vabbè io infilo facciamo finta che questa è una testa anzi no è una testa e quindi facciamo vediamo se mi viene pure adesso quindi questa si questa ha infilato lago da qualche parte io muovo un filo sotto perché mi è comodo e ha fatto due file di filato quindi circa poi vedete la dimensione io la faccio 1 2 3 4 5 dei 6 così si viene bella grande si vede fa ha fatto una fila di filo così e poi non ha fatto un'altra è riuscita di qua ok poi ha cominciato dividendo le due file a passare lago come abbiamo fatto per il sopracciglio dei mercoledì a fare lo spessore della bocca fino a qua non ci abbiamo il grosse difficoltà devo dire lei ha lavorato molto fitto è quindi cerchiamo di fa come ha fatto lei pregata l'idea tra turca non ci è piaciuta e l'abbiamo fatta subito nostra io studio continuamente sto su youtube praticamente per tutto il tempo invece di guardare cavolo da in televisione imparo un sacco di cose ok allora ripassato questa qua fatto il primo giro diciamo bene bene fino all'angoletto lei è andata ed è tutto fatto per bene ok pagato ha girato e ha fatto il piano di sopra quindi tutto sempre così molto molto bene molto molto fitto va bene vediamo un po se mi viene bene pure quella ecco questo filo si allenta ecco perché le teneva va bene ok quindi andiamo a fare bene che deve essere tutto bello bello appiccicate queste queste cose e diciamo è venuta male però vabbè la procedura è procedimento è questo provvedì dato che me se sta allentà sto filo ecco perché lei teneva ed in un capivo perché le teneva il cappietto dell'inizio lo teneva dei fori dico perché lo tiene dei fori perché sì perché sì perché corretto perché ogni tanto tirava vedi ecco ma vedi che questo non si fa tanto casino ok fatto questo fatto questo pure fino all'angoletto bene bene che cosa ha fatto è entrata nell'angolo della bocca e è uscita un appunto sopra la bocca acqua così poi è passata sotto al labbro superiore così è rientrata nello stesso punto è uscita non nel qua ma nella nel buco successivo si è mangiata la maglia praticamente ok e così poi di passata sotto al labbro così che carino è rientrata nello stesso punto è riuscita qua all'angolo allora questo qua deve sta qui così vedi oddio che carino bene detto ciò ha ripassato il labbro sotteriore inferiore per farlo un po più carnoso ma che carina mi piace tanto molto molto carino sto sto metodo meglio di quello mio tutto arruvogliato sì sì mi piace molto poi dato che questo labbro superiore si alza che ha fatto è passata sotto è andata in mezzo qui proprio proprio sotto 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 al labbro è passata sotto ok e l'ha fissato con questo modo ma l'amore che dite ma bellissimo mi piace tanto poi cerchiamo di magari ecco uno fa un paio di di giri qua si si la modelli un po con le dita per me e per me viene l'amore non so voi che ne pensate fatemi sapere nei commenti ma io ritengo che sia proprio carina quindi a questo punto io che faccio prendo sto sto filo lo ributto da qualche parte fisso il tutto bellissima ci piace molto vedete è venuta benino spero che vi è utile ciao fatemi sapere nei commenti e